Presentati questa mattina nell'aula consigliare del Palazzo Civico di Via Roma a Cagliari i tre nuovi assessori della giunta guidata dal sindaco Massimo Zedda. Saranno Barbara Cadeddu, Luigi Minerba e Paola Loi gli incaricati di seguire rispettivamente gli assessorati alla pianificazione strategica e istituti di partecipazione, alle politiche sociali e salute e al personale, affari generali, sistemi informatici e informativi. Gli assessori dovranno attendere la ratifica del Consiglio Comunale per poter iniziare la loro attività, che per il momento non comprende le deleghe di Polizia Municipale, Bilancio, Tributi e Società Partecipate e Avvocatura, che rimarranno ancora in capo al primo cittadino. Il ruolo di Vice Sindaco, dopo l'avvio concordato già a inizio consigliatura da parte di Paola Pilas, è andato a Luisa Anna Marras, che conserverà i compiti in tema di lavori pubblici ed edilizia, ma dovrà occuparsi anche di patrimonio. Allargate le competenze di alcuni degli altri assessori, a cominciare da Enrica Pugioni, alla quale andrà la delega per le politiche giovanili, oltre a quella già posseduta su sport e cultura. Mauro Coni, oltre a trasporti e infrastrutture, avrà competenza anche sulla toponomastica, mentre Pierluigi Leo prenderà le redini della protezione civile. Restano pressoché immutate le competenze di Barbara Argiolas e Paolo Frau. Alla prima uscita pubblica di questa mattina seguiranno gli impegni ufficiali per i tre nuovi assessori, che dopo aver incassato un primo informale via libera dalla maggioranza in consiglio, prenderanno possesso degli assessorati a partire da gennaio, dopo apposita delibera da parte dell'organo collegiale.